Questa è una delle attività gastronomiche più popolari al 179 della East Houston Street trova terrasse in Douglas Appetizers, attività avviata da un immigrato dell'Europa orientale che vendeva pesce fresco ai mercati dei carrettini, successivamente avvio a questa attività commerciale con l'aiuto delle figlie che lo coadiuvavano nel rapporto con i clienti anche perché egli non parlava fluentemente la lingua inglese oggi viene considerato il paradiso del pesce crudo e i suoi discendenti hanno aperto anche un vero e proprio ristorante che si trova sulla Orchard Street